Consiglieri ed assessori regionali del centrodestra convocati stamani presso l'hotel Villa Maria di Francavilla al Mare dal presidente Marco Marsilio per riprendere l'attività dopo la breve pausa estiva alla vigilia del consiglio regionale già convocato per domani. Un incontro voluto dal presidente Marsilio per affrontare temi che stanno creando malumori nel centrodestra. Era opportuno alla fine del periodo delle vacanze rivedersi, fare il punto della situazione, coordinare tutti insieme le prossime mosse e peraltro tra pochi giorni ora nel corso della riunione condivideremo insieme anche una prossima data dove faremo un'ulteriore riunione di maggioranza con finalità più strategiche, non sul domani sulla gestione di una seduta ma su una programmazione dell'attività quantomeno per tutta la prossima stagione, bilancio compreso per coordinare insieme l'azione della maggioranza per mettere anche tra gli assessori e i consiglieri di scambiarsi le prospettive e gli obiettivi. Presidente, qualche diversità di vedute si era registrata in merito alla legge di assestamento e alla nomina delle partecipate. Conta di appianare queste situazioni? Certo, come è sempre avvenuto nei cinque anni precedenti, altrettanto accadrà. È evidente che ogni momento di scelta produce dibattito, confronto, discussione. Le scelte per loro natura producono qualche reazione sia positiva che negativa ma è la normalità della vita, delle cose che siamo chiamati a fare. Abbiamo la responsabilità di decidere e continueremo a farlo nella condivisione degli obiettivi di fondo con tutta la maggioranza. Al vertice del centro-destra hanno preso parte solo i consiglieri regionali e gli assessori e non i segretari dei partiti. Assenti i giustificati? L'assessore Tiziana Magnacca ed il sottosegretario Daniele Damario. Il 27, ovvero domani, torniamo in aula. Credo che siamo il primo consiglio regionale che ricomincia la sua attività. È giusto prima di iniziare una stagione che ci porterà nei prossimi mesi a cogliere tanti obiettivi, ad approvare tante riforme importanti, fare un piccolo punto della situazione con tutte le forze di maggioranza e poi offrire questo dibattito anche alle forze di opposizione. Qualche diversità di veduta si era registrata in merito alla legge di assestamento, alle nomine delle partecipate. Sono tutti i temi sui quali il Presidente Marsilio riuscirà a ricompattare la sua maggioranza? Io toglierei il fatto dubitativo. Il Presidente Marsilio credo che abbia già ricompattato la sua maggioranza. Che poi ci sia dibattito è un fatto assolutamente naturale. L'importante è fare velocemente le cose che servono a questa regione, come stiamo facendo.